Una buona serata e ben trovati a TGM Sport Friuli Venezia Giulia, l'informazione sportiva di media 24, ultimo notiziario dell'anno di questo 2023 per cui non ci resta che fare un po' di bilanci su quello che è successo alle nostre regionali impegnate nei campionati federali. Ci siamo avvalsi della collaborazione di tutti i nostri collaboratori o in parte per entrare nel dettaglio. Ascoltiamo intanto cosa è successo all'Udinese che proprio negli ultimi giorni ha riportato un comunicato ufficiale dove ha chiuso il bilancio con un notevole più 62% sui ricavi. Ce lo racconta Barbara Castellini. L'Udinese Calcio ha chiuso il bilancio con un aumento del 62% dei ricavi. Se in campo i conti non tornano, negli uffici di via Candolini invece i risultati sono davvero eccellenti. Secondo quanto riportato da un comunicato ufficiale diffuso mercoledì pomeriggio, l'Udinese Calcio ha chiuso il bilancio con un notevole più 62% dei ricavi. Il valore del patrimonio netto si attesta a 123 milioni di euro, in discesa anche il debito finanziario che fa registrare un meno 18% rispetto al precedente bilancio. Aumenta invece il valore netto dei diritti pluriennali al 30 giugno 2023 che si attesta a quota 45 milioni, con un valore di mercato del parco giocatori a quella data di ben 185 milioni di euro. A questi valori si aggiunge la sensibile crescita dei ricavi arrivati a quota 126 milioni di euro rispetto ai 78 di un anno fa. Questo grazie al ritorno alla piena capienza degli stadi e al fattore Blue Energy Stadium che ha generato ricavi da botteghino per 8 milioni. Il conto economico dunque fa registrare una perdita di esercizio di soli 3,6 milioni a dispetto dei 69 del precedente. Il dato però è ancora influenzato dagli ammortamenti, pari a 6,5 milioni, generati dalla rivalutazione di stadio e marchio effettuata nel 2020 e consentita dalla normativa speciale Covid. Depurato dunque dall'effetto degli ammortamenti, il bilancio di esercizio risulta virtualmente inutile di 2,9 milioni. Il valore economico più rilevante, l'Ebitda, è positivo e si attesta a 54 milioni di euro, mentre i costi di produzione sono stati ridotti del 16%. Importanti poi gli accordi commerciali relativi alla denominazione commerciale dello stadio con Blue Energy e al main sponsor con Io sono Friuli Venezia Giulia. Il 2023 invece si può dire che in Serie C sorride alla Triestina di Attilio Tesser, Triestina terza ad inseguimento del Mantova capolista, che però tra i suoi ranghi è anche il re dei bomber e la terza miglior difesa del torneo. Trattasi di Facundo Lescano. Ci racconta tutto il collega Marco Fachin. Serie C nel girone A al gol parla Venezia Giulia. Finito il girone di andata nel gruppo A di Serie C è tempo di tirare le somme e analizzare i numeri della prima parte di stagione appena conclusasi. Per le squadre contano certamente prima di tutto i punti realizzati, quelli magari persi per strada e quante volte si è vinto, perso oppure pareggiato. Poi il turno dei gol, sia quelli segnati, che si spera essere sempre tanti, quanto quelli subiti, che al contrario si vorrebbe che fossero il meno possibile. E in questo senso la stagione 2023-2024 sorride alla Triestina che ha tra i suoi ranghi il re dei bomber e la terza miglior difesa del torneo. E Facundo Lescano è infatti il capocannoniere del girone A con 11 reti, in coabitazione con un sorprendente Tommaso Fumagalli, attaccante di una Gianna Erminio anch'essa sorpresissima fin qui del torneo. Il centro avanti della Triestina conferma il trend delle sue ultime stagioni, tutte in doppia cifra ed è ben avviato verso quella quota 20 che ha ottenuto lo scorso anno con la maglia del Pescara. Assieme a lui, come detto, Fumagalli, ma è al terzo posto che c'è una bella sorpresa per il movimento calcistico della nostra regione. Sul gradino più basso del podio infatti c'è Daniele Roccomo, un falconese doc. Il capitano dell'Egnago Salus ha messo a segno sin qui 10 reti facendo registrare già la sua migliore stagione in carriera in Serie C per ciò che riguarda i gol. Giocatore di grande esperienza che ha giocato in molte squadre in giro per l'Italia prima dell'Egnago, ha militato per il Charlins, il Belluno, l'Arzignano, la Gianna Erminio, il Bisceglie, l'Ettigione, Imolese, Triestina e UFM. Ora al classe 1990, a 33 anni, si sta prendendo la sua bella rivincita. Indicato da molti come quel tipo di giocatore capace di fare faville in Serie D, con tanti gol e sempre in doppia cifra, ma che paga al salto di categoria in Serie C, stavolta ha smentito tutti. Già migliorato infatti nella sola prima metà della stagione il suo massimo score che parlava di otto reti messe a segno con la Gianna Erminio, nell'annata 2018-2019. In Serie D, campionato tra gli alti e i bassi delle nostre regionali e del Portogruaro impegnate nel Girone C. Ci siamo a Bassi anche questa volta di Marco Facchin per un resoconto su questo 2023. La linea Marco. Sì Giuseppe, grazie mille per la linea. Nel Girone C della Serie D abbiamo al primo posto l'Union Clodiense Chioggia con 46 punti. 46 punti conquistati su 51 disponibili, in 17 partite 15 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, 31 gol segnati e solo 9 subiti. Sono numeri veramente da dominio assoluto. Dietro di lei il Treviso ha 34 punti e attenzione che nella prima giornata di ritorno ci sarà proprio Treviso Clodiense e in caso di una vittoria dei Biancocelesti magari potrebbe esserci la riapertura di un piccolo spiraglio. Al terzo posto sta facendo molto bene la Dolomiti Bellunesi a 31 punti con l'acquisto di Giacomo Marangon, uno che comunque sposta molto gli equilibri in Serie D. Poi al quarto posto, pari merito, c'è una coppia a 28 punti. Il Campo d'Arsego, una delle grandi di questo campionato, una che c'è sempre ed è ovviamente una conferma sia per la squadra bianco-rossa padovana che per mister Cristiano Masito e invece poi c'è con lei una neopromossa che nessuno si aspettava fosse lì, cioè il Bassano che ha fatto veramente un grande lavoro con mister Alessandro Pontarollo che è riuscito ad amalgamare subito una squadra nuova e giovane che ha dato degli ottimi risultati. Poi subito dopo di loro fuori per un punto dalla zona playoff con 27 punti c'è il portogruaro di mister Massimiliano De Mozzi che ha fatto veramente molto bene quest'anno con quella bella serie di 5 vittorie di fila. Ora si è un pochino assestato, ha iniziato magari a perdere qualche partita di più in trasferta, però comunque mantiene sempre un altissimo standard considerando che era partita appunto per salvarsi. Dietro al portogruaro ci sono Este e Montecchio Maggiore che sono due squadre molto solide costruite con ottimo criterio dai direttori sportivi e guidate da allenatori esperti. L'Este con mister Andrea Pagan che comunque è una delle certezze della categoria, un allenatore che fa giocare molto bene la squadra. Il Montecchio Maggiore con Fabrizio Cacciatore, ex giocatore di serie A subentrato a Federico Coppola. Dal subentro del tecnico appunto ex Chievo c'è stata una maggiore capacità di trovare la quadra per i Vicentini. Poi il Montebelluna Prodeco a 22 punti. Montebelluna che esce così da stagioni di grande sofferenza dove era anche retrocesso, poi c'erano stati dei ripescaggi, delle fusioni, però sembra che il Montebelluna appunto avendo questo impianto di squadra abbastanza consolidato con alcuni profili che sono lì da tempo sia riuscito finalmente a trovare la sua dimensione. Poi ci sono due mezze delusioni perché stiamo parlando di Luparense e Mestre a 21 punti. Forse il Mestre non ci si aspettava che andasse più in su di metà classifica anche se aveva iniziato con 6 vittorie su 6. La Luparense è sempre un mistero perché comunque ha fatto un ottimo mercato in estate per poi cambiare moltissimo anche ora lasciando partire il suo giocatore più rappresentativo Alessio De Cerchio che aveva fatto qui sin qui molto bene con 6 gol. La Driese è un'altra squadra che è un po' a deluso però è stata veramente falcidiata dagli infortuni su tutti quello di Brian Joé e poi c'è stato quello di Filippo Strada che è anche andato via. Comunque ha tutte le carte in regola per tornare ad essere protagonista. Il Chions entriamo nella zona play out curiosamente occupata da tutte le squadre non venete del girone. Il Chions ha 19 punti dopo un inizio scintillante ha avuto due mesi difficili che l'hanno portato in zona play out. Speriamo che possa riprendersi presto. Le presi presupposti e le possibilità ci sono tutte però comunque bisogna incominciare a macinare punti anche perché il girone di ritorno è sempre più difficile. L'Atletico Castegnato e il Breno a 16 e il Breno a 15 probabilmente non si aspettavano di essere in questo girone e stanno avendo un po' di problemi di ambientamento anche perché per loro comunque ci sono 16 trasferte vere da campionato nazionale. Il Mori Santo Stefano a 12 una neopromossa che appunto sapeva di dover lottare con le unghie e con i denti dal primo istante e in questo momento sarebbe comunque i play out. Poi c'è il Cernismuzzane penultimo a 11 che anche questa squadra ha avuto a parte dei problemi tecnici anche grandissimi problemi di infortuni. Sembra veramente un'annata stregata sotto tutti gli aspetti però comunque gli arancioblu hanno tutte le possibilità sia nella rosa sia in società per poter e dover fare meglio e uscire da questa situazione e chiude la Virtus Bolzano con 9 punti. Virtus Bolzano comunque è una squadra che fa molto capo al suo territorio, quello di Bolzano dell'Alto Adige va a pescare molti giovani. Lasciami chiudere con un pensiero, c'è appunto questo mini campionato forse a sei squadre tra la zona play out e la zona retrocessione con le non venete che rischia veramente di essere un campionato nel campionato dove secondo me il Charlize potrebbe veramente dire la sua perché è la più attrezzata. Ti ringrazio e ti ridò la linea allo studio. Grazie mille e passiamo da un Marco all'altro. È il turno di Marco Biziak a raccontarci quello che invece è successo in questo 2023 nel campionato a girone unico di Eccellenza Friulana. Ciao amici di Media24, buone feste innanzitutto Marco Biziak. Siamo alla fine di un altro anno e siamo nella sosta invernale dei campionati con il campionato di Eccellenza che ha anche chiuso il suo girone d'andate. Allora è tempo di pagelline per le squadre dell'Eccellenza del Friuli Venezia Giulia. È un gioco, lo prendiamo così, però magari ci dà anche qualche spunto per analizzare la stagione sino a questo punto. Il bello è che un po' come le pagelle di scuola alla fine del primo quadrimestre i voti possono cambiare ed essere migliori alla fine dell'anno e questo lo sperano ovviamente anche tutte le squadre. Partiamo dall'alto, partiamo dalla prima della classe, dal Brian Lignano che ha recitato un po' il ruolo del secchione di questo campionato e non possiamo non dargli 10 perché il Brian è in fuga in testa alla classifica dell'Eccellenza con un discreto vantaggio anche sull'inseguitrici. Stagione quasi perfetta la sua con Gianluca Civiello che invece a sua volta è in fuga tra i bomber e poi il Brian è anche in finale di Coppa Italia contro la Progorizia e lì magari proverà a prendersi la lode oltre al voto molto alto sin qui. A proposito di Progorizia, 6 e mezzo lo diamo ai Goriziani perché c'è un po' una distanza tra quanto fatto in campionato al di sotto delle attese e anche degli obiettivi che erano da primissimi posti mentre la squadra di Luigi Sandrin è piuttosto staccata da Brian Lignano, 14 punti fino a questo momento e ha faticato un po' però ha fatto una grande Coppa Italia e punta a portarsi a casa il trofeo nella finalissima Nicodroipo facendosi così anche un regalo in coda all'anno del centenario. Vedremo. Ci sono però due squadre invece che si meritano un bel nove, sono quelle più a ridosso della capolista, sono San Vitesse e Tolmezzo. Delle sorprese, soprattutto all'inizio stagione quando nessuno si aspettava di vederle così pronte, così competitive, però adesso sono invece delle realtà consolidate. Resta da capire se reggeranno o quanto reggeranno ma fino adesso c'è solo da togliersi il cappello di fronte a loro. Scorrendo così un po' i nostri appunti scendiamo fino al San Luigi, un'altra grande storica del calcio regionale che si prende un 6,5 sin qui. Ha chiuso l'anno a ridosso delle migliori però quei 27 gol subiti stono un po' non sono un dato da Big. Vedremo se migliorerà la sua posizione e la sua prestazione la squadra giuliana. Poi Fiume Veneto-Bagnia e Chiarbola-Ponziana, io la comuno con un voto 8, chiamatele mille vaganti o chiamatele sorprese, ma hanno fatto davvero un bel percorso sin qui. Pordenonesi increscendo dopo un avvio di stagione complicato, mentre trascinati anche da un Pier Alexandre Pluchino da ben 12 gol, mentre Chiarbola-Ponziana è stato forse un po' alterno ma ha fatto dei colpacci contro Tamai pro Gorizia nel derby con San Luigi e ha fermato sul pareggio il Tormezzo. Quindi un gran percorso. Non un gran percorso invece quello del Tamai appena citato che si prende un 5, un voto piuttosto severo ma che tiene conto delle aspettative di una squadra che era considerata tra le big del campionato e invece viaggia appena sopra, tre punti sopra la zona play-out, anche per merito dell'ultimo incoraggiante successo per 4-0 contro l'Azzurra per Mariaco. Quindi 5 per adesso per il Tamai, le furie rossa sono deluse e sono probabilmente la grande deluse della stagione. Codrob e Profagagna, 6,5 per entrambe, sono accumulati non solo dal voto ma anche dal cambio di allenatore, Fabio Franti è arrivato in corsa al posto di Lucas Salger a Codroipo e invece in casa pro Alessandro Tutteon ha sostituito Stefano Chiarandini anche lì in corsa. Troviamo poi il Magniago Bayonta a cui dare in un 7, un 7 per la continuità, è una squadra solida che ha centrato ben 11 risultati utili consecutivi nel corso del suo girone d'andata, un po' troppi pareggi, ben 7 più di tutti in campionato e questo è il motivo per il quale la classifica è ancora così un po' lì da metà del guado, però una bella prima parte della stagione per il Magniago Bayonta. Poi troviamo il River Darkano-Flaibano, sarebbe da 8 guardando solo l'ultima parte, la seconda parte del girone d'andata, però c'è anche quel difficilissimo avvio con diverse sconfitte consecutive che pesa su questo bilancio e quindi io gli darei un 6,5. Max Rossi però dopo l'esonero e immediato dietro front, quindi la permanenza sulla panchina del River, sembra aver trovato la quadra e si è anche tolto la soddisfazione di aver filato il clamoroso 5-2 Brian Lignano, cosa che non può dire davvero nessuno quest'anno fin qui in eccellenza. Poi tricesimo, Zaule e Juventina, tutte lì a cavallo tra la sufficienza stentata e qualcosa di meno, tra il 6-5, 5-6, squadre che hanno mostrato belle cose, a tratti bellissime, però si trovano lì sostanzialmente tra coloro che sono sospesi. Discorso un po' a parte per la Juventina che dopo un bellissimo avvio era stata forse una delle sorprese più belle, ha pagato un appannamento importante nel corso dell'autunno ed è scivolata nelle parti basse della classifica, c'è però anche da ricordare l'ottimo percorso in Coppa Italia della Juventina che ha di fatto quasi sfiorato la finale e con il suo successo esterno sul tormezzo ha fornito anche un assist ai cugini della Pro per appunto approdare all'ultimo atto del torneo. Arriviamo alle ultime della classifica, Azzurra per Mariaco 5, è una media tra un avvio di stagione straordinario, quasi da 9 o comunque oltre l'8, con quella difesa che sembrava imperforabile, un grande rendimento e poi invece una seconda parte da Incubo, adesso sono 6 sconfitte e un pareggio nelle ultime 7 e siamo scivolati al terzo ultimo posto, deve ancora riprendersi la squadra adesso da poco affidata a mister Campo. Infine Sistiana Ceciliano 5, sembra essersi un po' ingolfatto il motore della splendida macchina da calcio di mister Godeas vista lo scorso anno, non è riuscita sin qui a ripetersi, è piuttosto stentato il percorso dei Giuliani e 4 e mezzo invece la SPAR Cordova do fananime di coda che ha delle due nuanti, la giovane età media della sua squadra, un po' di sfortuna in alcune circostanze, ma 44 gol subiti in 17 partite sono un dato che non può far puntare alla salvezza, bisogna chiudere la porta per arrivare all'obiettivo. Questi sono i voti, le squadre adesso proveranno a migliorarli sicuramente e noi saremo qui a vedere se ci riusciranno. Buon anno a tutti, ciao! Scendendo di categoria parliamo di promozione A e non potevamo non avvalerci del collega Francesco Tonizzo ed il suo pagellone. Grazie della linea Giuseppe si è giocata il 17 dicembre anche l'ultima di andata, ovvero la quindicesima giornata che ha chiuso il 2023 nel campionato di promozione nel girone A. Solpasso in vetta della Foro Miuli Civitale a cui affidiamo un 8 in pagella. I ducali hanno vinto ai danni della capolista Sass Casarsa, è stata una delle compagini più in forma di quest'ultima stagione per la quale assegniamo in ogni caso un 8 a prescindere dalla sconfitta incassata per mano della Foro Miuli. Tengono il passo la Gemonese, terza in classifica a cui va un bel 7 e mezzo. Quarta ed in ripresa dopo un difficile avvio di campionato il Fontana Fredda che merita un 7 anche per come ha saputo gestire e reagire alle difficoltà nell'utilizzare il proprio campo di casa, il Tognon a Fontana Fredda. Stesso voto 7 anche all'oltre, più che sufficiente la pagella dell'Union Martignacco che si è tenuta a ridosso della zona playoff promozione così come da Bugliese che anche nell'ultima parte di stagione hanno cambiato marcia e adesso sono lì pronti a sfruttare tutte le occasioni che hanno per recitare da protagonisti. Era partito per salvarsi e merita dunque un bel 7 anche il Torre del mister Michele Giordano che è ormai una istituzione in via Peruzza dal momento che siede sulla panchina del Torre da ormai 13 anni. 6 e mezzo alla matricola cordilonese 3S mentre un 6 di incoraggiamento al Corva che era partito con forti ambizioni e che ora sembra aver trovato finalmente il punto di svolta con l'arrivo di mister Dorigo in panchina. Votto 6 anche alla matricola giallonera del calcio aviano passata dallo shock delle dimissioni di mister Titta da pieve fino al raggiungimento di un equilibrio abbastanza efficace con il mister Gianluca Stoico in panchina. Sotto la sufficienza UBF la tisana rivolto e maranese alle quali affidiamo un bel 5. 4 e mezzo infine per Teore e chiudiamo con un 6 meno di incoraggiamento a una sacilesi alla sua ammirevole dirigenza che ha voluto continuare a sventolare la bandiera bianco-rossa sul 25 aprile. Questi sono i nostri voti, restituisco la linea. Era questo l'ultimo servizio del giornale odierno e vi ricordo che è anche l'ultimo giornale di questo 2023. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia in questi tre mesi di TGM Sport Friuli Venezia Giulia. Io come sempre vi rinnovo l'appuntamento al 2024, sempre dopo il telegiornale condotto da Alessio Conforti e nel frattempo vi lascio alla programmazione serale del canale e a seguire la partita del campionato Under-19 tra Buiese e Maianese. Telecronaca Francesco Tonizzo e Fabio Buttazzoni. Io vi saluto e intanto con tutta la redazione di Pordenone di Media24 vi faccio i miei migliori auguri per un felice 2024. Auguri e buona serata. Grazie a tutti.